Benvenuto su Video del Lavoro, io sono Umberto Croci e questa era l'Amantino Brothers. Come tutti lunedì parleremo di tutte le opportunità che il video offre per il tuo lavoro. In questa terza puntata dedicata al video comunicato parleremo della scenografia, cioè di tutti gli oggetti che dietro di me raccontano. È importante questo perché gli oggetti non possono essere introdotti nel campo visivo in maniera causale, ma hanno un significato e hanno anche una funzione estetica. Per far questo gli oggetti devono essere posti a una distanza ben precisa dal soggetto del video comunicato in maniera che lui non proietti le ombre su di loro e che loro siano visibili e comunicano il concetto per il motivo che sono stati introdotti. Oggi noi parliamo del video comunicato che è un video di servizio che ci permette di raggiungere delle persone che normalmente non riusciamo a raggiungere. Perché? Perché siamo impegnati lontani dal luogo dell'azione. Allora gli oggetti presenti raccontano e i colori che noi andiamo a introdurre dentro questo campo visivo anche essi raccontano. Allora vi dico molti esempi dove noi andiamo a introdurre degli oggetti. Per esempio per noi occidentali è importante che siano alla nostra destra in maniera verticale. Perché? Perché noi occidentali parliamo e scriviamo con un senso. Per chi lavora e viaggia in Asia ha un altro, altre tensioni visive, altri spazi visuali predominanti. In questo video che è dedicato al mondo della produzione audiovisiva noi abbiamo un computer, abbiamo dei colori che ci permettono di enfatizzare alcuni aspetti narrativi. Nel prossimo video tutorial parleremo di delle parole, del copy, cioè come si struttura un testo per un buon video comunicato. Innanzitutto vi auguro buona visione e vi ricordo che potete essere sempre informati se vi iscrivete al canale spingiando il pulsante rosso. Potete tranquillamente chiamarci e inviarci le vostre domande, farci quesiti utilizzando tutti i nostri contatti, sia email, sia skype che quelli telefonici. Buona visione e buona settimana. A lunedì prossimo!